ben ritrovati amici di auto occasioni oggi mi trovo nella provincia granda e mi trovo assolutamente presso la concessionaria var in via mondo v 56 a beinette tra mondo v e cuneo e come ovviamente il titolare giuseppe botto e valentino vinai ben ritrovati allora giuseppe sono ben 40 anni più che la concessionaria ovviamente sul territorio ormai conosciutissima e qui con 5.000 metri quadri a disposizione sì certo elisa come hai già accennato tu la mia famiglia quindi mio papà è dal 1970 che è entrato nel campo dell'automobile abbiamo rappresentato vari marchi anche di prestigio quali alfa romeo volvo e onda ormai sono circa 11 anni che abbiamo questo nuovo marchio dr che può essere sviluppato anche in evo di cui siamo molto orgogliosi perché c'è una grande crescita a livello italiano quindi anche a livello qua della nostra provincia ci tengo a precisare che siamo i più vecchi concessionari d'italia del marchio dr quindi conosciamo alla perfezione queste vetture vi ricordo che siamo qua a beinette a cuneo nella famosa provincia granda che si trasdistingue per la nostra semplicità e accoglienza e per il buon mangiare qua siamo famosi per il vino per i tartufi e quant'altro la nostra sede è una sede di circa 5 mila metri quindi troverete una vasta gamma di autovetture vi ricordo che facciamo anche i finanziamenti con dei tassi molto agevolati però cosa molto importante che a cui teniamo precisare i nostri prezzi cui andremo a vedere delle autovetture nuove sono fissi quindi noi non obblighiamo il cliente ad effettuare qualsiasi finanziamento quindi per noi il prezzo è quello e rimane quello poi il cliente tranquillamente può scegliere se fare il finanziamento se fare l'assicurazione e tutto quello che vuole però sempre con quel prezzo lì abbiamo qua da noi solo a lavare una nuova proposta che è l'acquisto della vostra auto ossia se voi venite qua e acquistate l'auto nuova con un finanziamento noi a quel punto vi paghiamo l'autovettura in contanti quindi cosa succede che acquistate l'auto uscite con l'auto nuova e in tasca anche i soldini della vostra vettura usata a questo punto non mi dilenguerei più sul tutto e comincerei a farvi a rilustrarvi tutte le nuove proposte della gamma dr ed evo allora entriamo nel vivo della puntata andiamo a scoprire le proposte di questo mese state con noi cominciamo con la gamma dr perché poi la gamma evo ve la faccio illustrare dal mio collega valentino allora tutta la gamma dr può essere motorizzata con motori benzina o benzina e gpl cosa molto importante perché come sapete col gpl abbiamo bassi consumi perché viaggiamo circa 80 centesimi litro non pagano il bollo e possono entrare quando ci sono i blocchi del traffico questa è la miraglia della gamma dr che è l'f35 parliamo di un 1500 turbo 150 cavalli tutta accessoriata quindi tetto apribile cerchi in lega navigatore telecamere e una miriadi di altri accessori con un prezzo molto concorrenziale che partiamo da 23 mila e 900 euro vi ricordo che questa vettura a catena di distribuzione che tutte le nostre autovetture dr ed evo hanno impianto gpl della brc che è il top in europa e cosa molto importante tutta la gamma dr ha cinque anni di garanzia eccoci qua accanto alla nuovissima dr 4.0 appena arrivata ce l'hanno scaricata ieri è la prima che abbiamo in salone è una vettura motorizzata con un 1500 di cilindrata è possibile averla anche questa benzina oppure benzina e gpl sia nella versione manuale che nella versione cambio automatico questa vettura è tutta accessoriata con tettuccio interno in pelle navigatore metallizzato cerchi in lega e altri accessori vi ricordo nuovamente che sia su questa che sulle altre vetture abbiamo questo nuovo sistema qua la var che se venite acquistate l'auto con un finanziamento volendo vi paghiamo per contanti la vostra auto quindi uscite coi soldi della vostra auto in tasca e in più la vettura nuova vi ricordo nuovamente che comunque se non volete effettuare dei finanziamenti con noi potete acquistare l'auto e per noi il prezzo è fisso sia che facciate il finanziamento sia che non facciate il finanziamento non obblighiamo a pagare a rate l'autovettura ed eccoci qua dalla stupenda dr3 1500 b fuel 115 cavalli macchina tutta accessoriata ad un prezzo molto competitivo a partire da 15.400 buongiorno a tutti cari telespettatori come vi ha accennato giuseppe partirò con l'illustrarvi la gamma evo partendo dalla storica la evo 5 1.6 benzina e anche gpl originale della casa con impianto brc 126 cavalli avete l'esenzione bollo per cinque anni e poi dal sesto anno pagato un quarto vettura super accessoriata l'unica vettura con la ruota di scorta ad un prezzo a partire da 14.900 euro passiamo ora la evo 4 1.6 benzina e gpl 116 cavalli vettura full optional di serie come tutte le altre con quattro telecamere sensori di parcheggio cruise control e mille altri accessori ad un prezzo di 16.900 euro quindi non vi resta che venire a scoprire qua in sede passiamo ora la nuovissima evo 3 l'ultima nata in casa evo 1.5 benzina e gpl 115 cavalli a partire da 14.900 euro tutta accessoriata con motore e con catena di distribuzione concludiamo la presentazione con la evo electric 100% elettrica quindi completamente green 300 chilometri di autonomia 140 chilometri di velocità massima vi ricordo che questa vettura è la più economica sul mercato quindi non vi resta che venirla a vedere e provare ora rimanete sintonizzati che vi illustrerò alcune delle offerte del mese per quanto riguarda l'usato partiamo con questa stupenda dr 0 mille benzina del 2018 con soli 27 mila chilometri questa era la vettura della signora botto la mamma di giuseppe una vettura guidabile da neopatentati a 8.600 euro volkswagen passat 2.000 diesel 140 cavalli del 2010 con cambio automatico full optional 7.450 euro saiong tivoli 1.6 diesel 115 cavalli del 2016 con soli 55.000 chilometri vettura unico proprietario euro 6 full optional col cambio automatico a 13.800 euro favolosa seat leon 2.000 diesel 150 cavalli modello fr del 2014 vettura unico proprietario con navigatore bluetooth e gomme quattro stagioni a 7.300 euro proseguiamo con questa fiesta 1.4 diesel del 2014 con 70.000 chilometri con bluetooth e una vettura pari al nuovo 7.950 euro dr 5 1.6 benzina gpl 126 cavalli del 2019 una vettura pari al nuovo unico proprietario con 15.000 chilometri a 14.200 euro bmw 318 touring 2.000 diesel del 2012 con cambio automatico 56.000 chilometri a 12.350 euro pejot b per 1.3 diesel 75 cavalli del 2013 unico proprietario guidabile da neopatentati in più quattro cerchi in ferro e barre porta tutto a 5.800 euro toyota rav4 4x4 2.2 diesel 136 cavalli del 2008 con gancio traino super accessoriato 5.600 euro come avete potuto vedere al piano superiore abbiamo un reparto chiamato outlet con vetture fino a 5.000 euro su tutte le vetture abbiamo la possibilità di effettuare dei finanziamenti a dei tassi agevolati e la possibilità di fare le estensioni per il secondo e terzo anno della garanzia avete visto davvero tanta scelta fra DR ed Evo e davvero tantissime vetture bianche per prepararsi all'inverno certo lisa dopo questa bella carrellata di autovetture nuove bianche perché ci prepariamo per la neve perché qualcuno ne scende parecchia vi ricordo i servizi che abbiamo qua abbiamo l'officina il magazzino ricambi l'autolavaggio il carro attrezzi e la vettura sostitutiva e tutto quello che serve per coccolare la vostra auto quindi vi aspettiamo numerosi qua a cuneo a beinette nella provincia grande e come diciamo noi in piemontese vi spettiamo sì a pien caffè quindi un grande abbraccio da parte mia di valentino di tutto lo staff quindi vi ricordo l'indirizzo via mondo v56 a beinette professionalità serietà e soprattutto accoglienza da qui è tutto alla prossima puntata ciao